ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 dopo davvero una vita torno a parlarvi di qualche libro non che in questo lungo periodo non abbia letto anzi tra l'altro tra le varie letture fatte ne ho pure proprio fatte alcune sulla corsa o sul trail ma non mi avevano mai ispirato una puntata stavolta forse perché il protagonista è un personaggio leggendario forse perché mentre lo stavo leggendo mancava poca utmb o forse anche perché è stata proprio a tutto tondo un'esperienza gradevole di qualche ora trascorsa sotto l'ombrellone durante le mie ferie estive insomma mi sono sentito sì ispirato il libro in questione come probabilmente avrete anche letto dal titolo è il corridore storia di una vita riscattata dallo sport di marco olmo e gaia de pascale solitamente quando faccio queste puntate faccio anche una minima introduzione sull'autore ma questa volta relativamente a marco olmo non credo che il mitico olmo appunto abbia bisogno di presentazioni aggiungo comunque per correttezza e completezza che in realtà olmo è stato coadiuvato nella scrittura di questo libro da gaia de pascale di lei sì qualcosa vi dico autrice genovese che tra le altre cose ha scritto pure lei di suo pugno un libro a tema running dal titolo correre è una filosofia chissà che un giorno non lo legga tra l'altro ha proprio una piccolissima parentesi per annotare come si vede che gli autori genovesi che corrono ci tengano molto a mescolare la corsa e la filosofia come fa anche il mio grandissimo collega claudio magnasco ma torniamo a noi dicevo che marco olmo non necessita di alcuna introduzione sul personaggio sulla sua storia a maggior ragione raccontandovi di il corridore che è una sorta di autobiografia e quindi vi racconterò di lui parlandovi di questo libro che è anche abbastanza breve io ci ho messo veramente poche ore di lettura ma scorre veramente bene lo stile è asciutto quasi sommesso per certi versi cosa che però credo rispecchi in pieno la personalità dell'ultra runner piemontese sicuramente la modestia è una delle caratteristiche principali di questa lettura dato che olmo ci parla di sé come di una persona normalissima che anzi si spende per ore in un lavoro logorante riuscendo al tempo stesso in imprese difficilissime di ultra trail la biografia si apre con lo stesso olmo che si guarda allo specchio e si domanda sono davvero io quel vecchio lì del resto è un fisico secco secco il suo di un uomo che ha già superato i 60 anni età dove è più facile che si smetta di far sport qua in queste pagine siamo idealmente nel presente cioè nei giorni in cui stava nascendo questo il corridore ed il capitolo così per farci comprendere fin da subito l'olmo pensiero si chiama anatomia di un perdente perché in queste pagine marco olmo non se la tirerà mai non mostrerà mai i muscoli per usare un modo di dire ma piuttosto ci parlerà sempre del lato umano del dover contemplare le sconfitte la fatica e il sacrifici ma subito dopo iniziano i flashback perché si si torna effettivamente indietro nel tempo ma neppure troppo del resto olmo a correre ha iniziato relativamente tardi attorno ai 40 anni e ce lo racconta proprio nei primi capitoli ci parla di come si sia avvicinato alla corsa iniziando da chiaramente sonore sconfitte anche alle gare di paese al tempo lavorava duramente in una cementeria della zona ma nel tempo sentiva la necessità di avere qualcosa di diverso un bisogno che col passare del tempo è diventato poi la corsa meglio se su lunghe distanze pian piano viene ripercorso durante le pagine tutto il suo iter di crescita fatto di tanti bassi ma anche di alcuni alti seppur molto molto notevoli in particolar modo soffermandosi sul suo amore per il deserto con i racconti di tantissime esperienze partendo dalla primissima e sorprendente maraton de sable il cui invito a partecipare è arrivato veramente inaspettato in un freddo febbraio del 1996 ma immancabilmente anche dalla montagna che poi lui vede un po tutti i giorni nella sua finestra di casa ama la natura lo dimostra sempre e ama anche essere a stretto contatto con essa quasi per fondersi come se fosse un tutt'uno oltre alle descrizioni delle varie maratone de sable desert cup non poteva non esserci una parte dedicata a utmb che chiaramente non era il circo di oggi nata da poco ma come racconta olmo stesso diventata nel giro di pochissimi anni già all'epoca una sorta di campionato mondiale del trail utmb che vincerà ma che sarà anche al tempo stesso successivamente fonte di delusioni ed è in occasione di queste ultime che esce ancora più fuori la vera personalità di marco olmo il libro tra su da onestà umiltà altri avrebbero parlato di sé come delle semi divinità dato il grande palmares lui invece si paragona più che altro un mulo per via della sua tenacia e testardaggine e forse non è un caso come le ultime parti del libro vadano un po ripercorrere alcune sconfitte e momenti complicati come ad esempio l'utmb del 2008 dopo due vittorie in fila negli anni precedenti era l'ovvio favorito ma invece è stato costretto a ritiro al 148esimo chilometro o anche l'anno dopo un'annata forse ancora complessivamente più buia della precedente tuttavia olmo va a concludere mostrando ancora una volta la sua tenacia e costanza cose che vengono rimarcate spesso nelle pagine di questo libro la voglia di correre e continuare a farlo a lungo a prescindere dal risultato quella c'è sempre perché per lui correre è sempre il suo futuro a margine mentre leggevo ho fatto anche un paio di pensieri sparsi soprattutto rivalutando alle varie situazioni narrate sia di allenamento che di gara non sono passati poi chissà quanti anni si parla di fine anni 90 inizio nei 2000 ma a livello sportivo sembra un'era geologica fa specialmente in uno sport giovane come il trail eppure all'epoca non c'era di certo la sofisticazione attuale in fatto di abbigliamento materiale tecnico alimentazione e così via ma a marco olmo non si fa di certo alcun problema anzi nel libro proprio ci parla del suo avvicinarsi al diventare pure vegetariano il che ci porta anche a riflettere come noi amatori probabilmente ci ossessioniamo troppo con questi dettagli ci facciamo tante pippe mentali io per primo guardando al grammo in meno da portarci dietro la composizione chimica dei gel quando poi invece uno come olmo ha corso tmb o nei deserti vincendo a ripetizione con attrezzature rudimentali modificate da lui stesso per fare un esempio certo non c'era neanche la concorrenza odierna a livello di avversari per carità ma restano pur sempre avventure leggendarie e grandissimi grandissimi risultati ma al di là del nero piazzamento appunto dei risultati ci tengo a sottolineare come il messaggio che più traspare da queste pagine è l'amore di marco olmo per la natura e per lo sport per l'essere onesti anche testardi ma veri e sinceri con gli altri e con se stessi e l'ultra trail è uno sport che per certi versi ti obbliga ad esserlo se non vuoi rischiare grosso specie se si va come lui in giro per ore ed ore a correre per deserti e montagne come faccio sempre quando si parla di letture chiudo la puntata con un paio di cosette in primis lasciandovi in descrizione il link amazon al libro se acquistate passano da quel link per voi non ci sono costi aggiuntivi ma io prendo qualche centesimino niente di che nulla di più che è comunque un modo che avete per aiutarmi nel portare avanti questo progetto in modo per voi totalmente gratuito infine come da abitudine vi leggo anche alcuni estratti che mi hanno colpito e che mi sono appuntato il primo viene proprio dall'inizio dal primo capitolo ed è un modo per farci capire fin da subito qual è lo spirito di marco olmo e come poi sarà il tono voice e la narrativa del libro vado piano macino chilometri mi porto in pressa addosso l'antica abitudine della fatica io non do spettacolo io resisto un'altra citazione riguarda invece come vive l'idea di smettere di essere un atleta la fine della carriera è il mio tormento più grande al confronto il non vincere non è nulla e forse dentro al non vincere ci sono già ma non importa non è che devi per forza salire sul podio per essere soddisfatto di una gara nelle pagine del corridore specialmente all'inizio c'è anche ampio spazio ai pensieri circa il lavoro e come conciliarlo con lo sport c'è un veramente sintetico pensiero di olmo che penso sia significativo in questo senso la mia vita si potrebbe riassumere così lavoro per vivere e vivo per correre non potevo poi non riportare il suo pensiero circa la definizione di eroe visto che anche per me questo essere eroi è sempre un po discutibile mi ha sempre dato fastidio essere chiamato eroe gli eroi sanno cosa fare sanno come si devono comportare e se sbagliano i loro errori non feriscono nessuno io sono una persona normale una persona che ha perso che si è ritirata che ha gettato la spugna che è stata ferita che ha avuto paura questo è marcolmo uno che eroe non lo è mai stato e mai vorrà esserlo e adesso l'ultimissima durante la lettura ammetto di aver preso tanti tanti appunti ma ovviamente ho fatto una selezione delle citazioni che già comunque ve ne ho lette parecchie questa conclusiva che poi infatti è quasi posta alla fine del libro è una sorta di sintesi di che cos'è per lui l'ultra trail e penso però che si possa adattare bene anche a tanti di noi io il mio modo di forzare questi limiti l'ho trovato nella corsa anzi nell'ultra trail la corsa che più di ogni alta rifiuta le regole si può andare forte camminare aumentare la falcata nessun giudice sarà mai lì a dirti chi non si fa non esistono andature obbligate solo tu la tua vita il tuo passo il tuo modo di andare incontro al destino ed allora per commenti fatemi sapere se avete letto questo libro e qualsiasi altra cosa suggerimenti su altre letture ad esempio scrivetemi in privato su telegram al mio account chiocciola lorenzo maggiani oppure su instagram o via mail tutto quanto sta nelle note dell'episodio vi ricordo anche che se volete unirvi alla community dei pazzi che mi sostiene e che mi dà una mano nel portare avanti questo progetto sempre nelle note c'è il link per accedere al canale patreon potete partire che da un singolo eurino al mese per oggi direi che è veramente tutto cari runners ogni momento è buono per farsi una lettura a tema corsa e trail ci sentiamo alla prossima puntata grazie a tutti